Ciao, sono Serena e benvenuti nel mio canale Cooking with Sere. Oggi prepariamo insieme le polpette di zucchine in frigidrice d'aria. Grattugiate una zucchina abbastanza grande. In una ciotola mettete 200 g di ricotta e aggiungete la zucchina. Poi mettete un uovo, 50 g di parmigiano. Menta secca, un po' di pepe e un pizzico di sale. Amalgamate i vari ingredienti e aggiungete del pangrattato quanto basta. Formate le polpette, se serve bagnatevi le mani. Mettete le polpette nel cestello della frigidrice d'aria. Aggiungete un filo di olio, un pizzico di sale e cuocete a 170 gradi per circa 15 minuti. Le polpette di zucchine sono pronte, vi lascio il link della ricetta sul blog in descrizione. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale.